E' una doppia estrazione delle carriere, quella in calendario per sabato 20 agosto alle 11 in piazza del Comune ad Arezzo, per l'edizione straordinaria della giostra del Saraccino di sabato 27 agosto e per l'edizione di quella della Madonna del Conforto di domenica 4 settembre. La lancia d'oro, intanto, per l'edizione straordinaria, sta tornando da Roma dopo essere stata esposta ai musei vaticani e sarà presentata alla città in una conferenza stampa in calendario per il 19 di agosto. Domenica 21 agosto, dopo il completamento delle operazioni di rifinitura degli allestimenti in piazza Grande e il montaggio del buratto, dalle 20.15 alle 23.30 inizieranno le prove dei giostratori che proseguiranno negli stessi orari fino a mercoledì 24 agosto. Giovedì 25, dalle 17.30 alle 18.30 si terrà il turno facoltativo di prova per i giostratori titolari e a seguire la bollatura dei cavalli. Alle 21.30, infine, appuntamento con la 44esima prova generale della giostra del Saraccino dedicata a Luciano Centini. Già aperta la biglietteria nei locali del Teatro Comunale Pietro Aretino. Dopo il primo giorno di apertura, giovedì 18 agosto, gli altri sono previsti per giovedì 25, dalle 9.30 alle 22.30 e sabato 27, dalle 9.30 alle 22.30. Il centro di accoglienza turistica Benvenuti ad Arezzo, invece, in Piazza della Libertà, sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.00. Per chi invece volesse acquistare i biglietti online può farlo attraverso il sito del boxoffice toscana.it